I lavori che sta facendo il Comune di Pescara sulla parte di riserva dannunziana danneggiata dall'incendio del 1 agosto 2021 vanno interrotti subito e quanto chiedono alcune associazioni ambientaliste che tra l'altro sollecitano anche l'istituzione di un comitato scientifico previsto dalla legge per non danneggiare ulteriormente il delicato sistema della riserva. Uno dei punti cruciali contestato riguarda la rimozione del legname come sottolinea il biologo di Italia Nostra Giovanni Damiani. Mettere tutto il legname all'asta e portarlo via dalla pineta è scientificamente sbagliato. Questo per due motivi. Il primo motivo è perché quel legname, quei tronchi hanno accumulato i pochissimi nutrienti che nel suolo della pineta ci stanno. Allontanare questi tronchi significa quindi impoverire di nutrienti per delle piante la pineta. Significa metterla alla fame. L'altro motivo per cui diciamo che è profondamente sbagliato è la questione climatica. Noi abbiamo che queste piante hanno catturato un'idride carbonica dall'atmosfera attraverso la fotosintesi e l'hanno inglobato nel proprio tessuto legnoso. Se questi adesso finiscono al fuoco restituiscono tutta la CO2 clima alterante e così si trasformano piante da nostri principali alleati nel combattere la crisi climatica nell'assorbire CO2 ad emettitori, a nemici. C'è poi la risorsa suolo da salvaguardare, stressato e danneggiato dall'uso di mezzi pesanti. In che modo? Lo abbiamo chiesto ad Alberto Colazzilli di Conalpa. Cosa dovrà essere fatto per recuperare questo suolo? La prima cosa è quella di utilizzare questo legname che è stato accatastato per renderlo cippato, quindi trasformarlo in umus in pratica, in materiale che viene riportato nel suolo stesso e attraverso dei lavori di recupero e di restauro della situazione automaticamente dovrà essere poi mescolato con il suolo, perché ricordiamo è un suolo sabbioso, povero, di natura e quindi ha bisogno di nutrienti. Questa è una cosa che va fatta, quindi quel legname va lasciato in loco triturato e poi bisognerà col tempo, ci vorranno degli anni, lavorare sull'arieggiamento del suolo, il recupero stesso del suolo, quindi questa è una cosa molto importante che dovrà essere fatta.